Mi fermo, mi fermo. Concludo così, sempre collega il Movimento 5 Stelle dice che questo governo ha portato l'Italia al suo più basso punto di credibilità. Guardi, questo io penso che lo debbano giudicare gli italiani e lo giudicheranno. Le posso dire dal mio punto di vista quale è stato il più basso punto di credibilità che io ho visto di un governo italiano all'estero. E posso dirle che lei non mi vedrà mai, fin quando io governerò questa nazione, a rincorrere al bar un mio parigrado durante i lavori del Consiglio europeo per tranquillizzarlo sul fatto che i membri della mia maggioranza scherzano perché devono dire qualcosa al loro pubblico ma che alla fine si farà quello che vogliono gli altri. Non mi vedrà mai rappresentare l'Italia così, costi quel che costi. Colleghi Grazie Colleghi Grazie 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 Grazie